Benvenuti in un nuovo video di Mattiette Gamer Official e oggi siamo ritornati su Hey Day Allora, scusate se non sono stato attivo per due giorni oggi ho caricato un nuovo video e intanto ho preso anche il cane che l'ho chiamato come il mio cane, quindi Ares e poi ho fatto la barca infatti mi hanno dato quello e ho preso il cane e in un accesso ho trovato anche tre di quelli verdi poi ho comprato anche il pass che ho preso tutto e poi andiamo ah intanto andiamo a mangiare i polli speriamo che a me non li devo mangiare da un botto di tempo ok poi andiamo anche ai cosi ai maiali poi la miniera non la posso ancora fare perché anche quello anche se è di livello senza di voi scusate e sono salito di livello ho sblocato un po' di oro e la miniera perché si sblocca a livello 24 e a livello 25 si sblocca cioè si sblocca la contrata che è questa che io non ce l'ho però tra un livello ce l'ho io devo fare la barca quindi mi serve canne a zucchero mele le mele che sono al mio clan e se volete essere miei amici mettete y u o j u y 9 q andate qui aspetta andate qui sulle tre persone vabbè ho detto andate qui sulle tre persone c'è un libro voi qua scrivete y u questo qui e ve lo cerca e mandate richiesta io se riesco ve lo accetterò normalmente ci mettono ancora 6 ore e ho preso anche queste decorazioni che sono molto carine e ho chiuso qua ho preso lei l'ho chiuso e poi qua non ho 7 e poi c'è sempre il plutone qui e ok mettiamo un po' di mangiare di polli perché non c'è mai mai di mangiare di polli non so perché allora ognuno da Greg vediamo cos'ha nella sua bancarella vi consiglio sempre andate da Greg che tipo ha della soglia a tre o ste cose che se vi servono gli altri li trovate tante a molti invece se ve ne servono un pochino tipo delle seghine queste qua per tagliare degli alberi o le accette lui le vende a tre o a dodici un'accetta quindi è molto conveniente invece gli altri vediamo vediamo gli altri se riesco a trovarle perché non è anche detto che riesce a trovarle tante vediamo un po' di popcorn e dovrei essere a posto con i popcorn poi vediamo cosa mi serve e cosa mi serve boh a me lo chiedi vabbè allora ah la Supercell in questi due giorni mi ha mandato due pacchetti con le gemme infatti ne ho 26 e tipo tantissimo poi non so come ho fatto anche queste cliente ratare adesso devo fare e vendi prodotti ai clienti due 2500 volte poi ah ecco io anche 600 uova quello posso riesco a fare qua non ho riscattato tutto mettiamo bene ok io direi di comprare un'altra percorella forse scrivete qua nei commenti se dovevi comprare un'altra percorella un'altra munca dato che ho i ricci ah no qua c'è una munca mi è sgozzato perché si me identizzava in questo bucciolino mi ha dato l'angiale poverina ok madonna ragazzi veramente io sono un coyote veramente perché non registrato veramente comunque comunque gli stavo dicendo che c'era questo il me del passato diceva che era questo invece si è accorto che era questo e c'è questo quindi ho messo a fare un po' di burro e nella prossima giornata oltre che la contrata e lingotti e il peperoncino e questo e questo e questo e questo i permessi di espansione che servono a questo infatti si sbloccano a livello 25 però noi siamo a 12000 ok quindi quindi allora vediamo allora orco schifo 442 magari anche no perché vediamo quanti sono quanto sono 4400 sono 20 euro grazie ma no la prossima volta la prossima volta anche però questa no tom non scansa fatiche tom no tom scansa fatiche scansa fatiche vediamo cosa c'è nel giornale questi mi servono che sono anche abba abba ehm si ho spiegato in tutti i miei soldi nel frattempo però questi sono altri dettagli i miei soldi spiegato così ok mettiamo questo io direi di metterlo anche qua non ci sta il candolotto ok forse ci sta se ci sta sta anche bene c'è un signore vediamo cosa vuole signore soia non è signore c'è il balletto di forno metto un panzone sai tutta con la panza è per forno vabbè basta eh dai ok allora siamo a sette minuti no no ancora due minuti dai facciamo arrivare a nove dai 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 perdo tempo come posso che bello sorve guardate questa roccia guardate che bella guardate che bella perdo tempo devo prendere tutto la miniera sì sì devo prendere la miniera la miniera sì sì bella la miniera visto miniera anche qua 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 lui lui teliera che bella teliera guardate l'ateliera vabbè basta basta molto perso ah perso aspetta il coso di pollo colcino facciamo fritta che è pollo poi diventa pollo c'è un KFC buono no 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 non so qua allora vediamo cosa c'è un lingotto lingotto mi servono tre a me in realtà di lingotti dai 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 questo è 36 ok fritte io ho capito che è 36 però tu non mi puoi buttare le cose là se vanno per la cosa quindi eh se vanno per la città 34 e sono 24 allora ok facciamo un minuto un minuto per di tempo a cercare un cigliaccio vabbè io direi di interrompere qua e lasciate un like un un commento quello che ho detto prima adesso non me lo ricordo e lasciate like ed iscrivetevi e noi ci salutiamo ciao